Musica Mentre scade la terza rata della Tares che per alcuni contribuenti ammonta anche a 2000 euro, la città continua ad essere sommersa dai rifiuti, la ragione, messi in ambienti al collasso, i mezzi per lo svuotamento dei cassonetti sono dimezzati, quelli per il trasporto in discarica appena 3. La squadra allestita dai vigili urbani non dà tregua agli incivili, dal primo giugno ad oggi sono stati elevati 72 verbali, multe per 10.000 euro sotto sequestro un camion. Sempre più difficile la strada del risanamento del comune, il gruppo consigliare del megafono chiede che Palazzo Zanca dichiari il dissesto, intanto ai revisori mancano carte importanti sul consuntivo 2013, Barrile e Mondello chiedono l'ingaggio di consulenti. Davanti alla cavalcavia, dopo il comitato della nostra città, a scendere in piazza è un altro comitato antitir, a farne parte diversi esponenti della sinistra antagonista e del movimento Pinelli, al comune invece protesta degli ambulanti. Singolare esposizione al palacongressi di Taormina in vetrina, ai cimeli di Elvis Presley dalla Cadillac ai vestiti, si prevede l'arrivo di fans da tutto il mondo. Grazie a tutti.